Sì, bellissimo, stupendo e la terza volta che vengo è stupendo. Sono una bella giornata e quindi facciamo una passeggiata per la pista ciclabile e ammirare le meraviglie del Golfo del Vasto. Passione bicicletta, dunque siete diretti? Adesso abbiamo già fatto la ciclabile fino a Punta le Morge e siamo tornati. Io e mia moglie siamo venuti dall'Aquila perché lì fa freddo, qua si sta ancora bene quindi mettiamo le bici in macchina e veniamo qua. La Costa dei Trabocchi piace, affascina, conquista e la prima edizione di Art Bike & Run ha inteso inaugurare la Via Verde promuovendo il caratteristico tratto di litorale abruzzese. Il progetto di Legambiente Italia con la Camera di Commercio Chieti-Pescara in partnership con Regione Abruzzo, provincia di Chieti, Comune di Vasto e Gal Costa dei Trabocchi è stato ideato dall'Agenzia Carza di Pescara. Quattro giorni in cui sono state organizzate attività per conoscere la costa e scoprire paesaggi suggestivi sulla bici e non solo e degustare tipicità dell'enogastronomia abruzzese. Iniziativa riuscita nonostante l'annullamento di una gara a cronometro individuale a causa di un problema tecnico ma si pensa già all'edizione del prossimo anno. Roberto Di Vincenzo, presidente Gal Costa dei Trabocchi. Complessivamente siamo molto soddisfatti perché abbiamo verificato un bisogno sul territorio non solo locale perché tantissime persone sono venute da fuori per partecipare alla manifestazione e questa pista ciclabile è meravigliosa. Il contesto qui di Piazzaro di Vasto è un eccellente contesto per la sua dimensione il fatto di stare sulla riviera e di essere assolutamente a fianco alla pista ciclabile e quindi parlando anche con i partecipanti c'è un buon riscontro partecipanti, dico quelli che hanno costruito assieme a noi il villaggio e quindi complessivamente sono soddisfatto. È chiaro, ci sta tantissimo lavoro da fare, l'importante è poter programmare. Noi ci metteremo al lavoro immediatamente, è chiaro che oramai la pista sarà pronta, brevissimo, questo è certo, per cui ci mettiamo in cantiere per la prossima edizione che si svolgerà la prima settimana di giugno perché avviamo la stagione e poi la faremo a chiusura del Giro d'Italia, così con la passione della bicicletta in corpo le persone parteciperanno con molto più desiderio.